Primo giorno con il nuovo DPCM firmato dal Premier Draghi, provvedimento che resterà valido fino al 6 di aprile che conferma il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino estendendo il divieto di spostamento fra le regioni fino al 27 di marzo. Abruzzo che si conferma bicolore, arancione per il governo nazionale ma con diverse città arancione scuro per provvedimento della regione che ha esteso l'ordinanza restrittiva già in vigore. Il riferimento al DPCM nazionale nelle zone rosse è sospesa l'attività in presenza nelle scuole di ogni ordine grado e in Abruzzo il presidente della regione anche per le zone arancione scuro ha deciso che soltanto gli asili resteranno aperti eccessione fatta per alcuni comuni come Chieti, Montesilvano e Pescara dove i sindaci hanno deciso di chiudere non senza polemiche. Stop anche i servizi alla persona per quanto riguarda l'ordinanza nazionale ma anche qui l'Abruzzo farà eccezione perché l'ordinanza regionale firmata ieri sera dal presidente Marsilio consente a parrucchiere ed estetisti di restare aperti. Dal 27 di marzo poi potranno riaprire cinema e teatri nelle aree gialle secondo il DPCM del governo con una capienza del 25 per cento ed un massimo di 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso. Una data quella di fine marzo che l'Abruzzo ha fissato sul calendario come probabile ritorno alla zona gialla. In questo tourbillon di DPCM di ordinanze di divieti e di concessioni non è mancata la confusione così come non mancano le critiche all'ordinanza regionale che vale dal 7 per le nuove zone arancione scuro mentre vale già da subito per quelle che erano già in restrizione. La reprimenda verso il governo regionale arriva dalla Confcommercio di Pescara che parla di un'ordinanza confusa, iniqua e che continua a penalizzare solo il settore del commercio. Abbiamo accettato con pazienza per tre lunghe settimane le restrizioni previste nella zona rossa per il bene di tutti, ha detto il presidente di Confcommercio Pescara Riccardo Padovano, ma ora con un indice RT da zona gialla e tante evidenze che dimostrano che la stragrande maggioranza di contagi avviene fra le mura domestiche o in ambiti in cui si allenta l'attenzione all'uso delle mascherine non possiamo più accettare, conclude Padovano, la chiusura delle attività commerciali che rispettano rigidi protocolli che di fatto rendono quasi impossibile il contagio. Soddisfazione invece viene espressa dalla CNA che ha dato indicazioni ai propri associati di aprire normalmente le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista alla clientela rispettando così l'ordinanza firmata dal presidente della regione Abruzzo. La CNA invita le amministrazioni comunali interessate a consentire l'applicazione dell'ordinanza regionale superando una situazione di confusione che si è venuta a creare sul territorio regionale. A detta sempre della CNA l'ordinanza della regione prende atto del migliorato quadro epidemiologico e riconosce la bontà delle misure di salvaguardia della pubblica salute adottate dalla categoria con i protocolli utilizzati.